Il mio canto libero è lo spettacolo che Simone Sala, il conosciutissimo musicista di Boiano, ha voluto realizzare portandolo in un luogo dedicato alla musica, in questo caso l'Auditorium di Isernia. L'idea di Simone Sala è stata quella di provare a fare, insieme agli spettatori, un viaggio attorno alla canzone italiana e di farlo con alcuni ospiti importanti, a partire da Silvia Mezzanotte al tenore Paolo Bartolucci, passando per il soprano Antonella Inno, Agata Borrone, il batterista Oreste Sbarra, la voce di Maura Sala e tanti validi strumentisti come Fabrizio Celentano, Mino Berlano, Gerry Figliola, Questa sera, alle 21, la nostra emittente trasmetterà tutto lo spettacolo del 19 giugno 2021. Ogni sera di sotto il mio balcone, sento cantare una canzone d'amore, più volte da ripeto un bel garazzone, e battere mi sento forte il cuore, e battere mi sento forte il cuore. Grazie. Grazie.